Benvenuti, io a nome dell'orchestra Romagna Doc vi voglio dire grazie, siete in tanti e vi volevo soprattutto dire che questa è una serata molto particolare perché sono due orchestre che si incontrano in amicizia e vogliono creare un paio, due ore, tre ore di buona musica senza nessuna concorrenza perché tra di noi non c'è. E poi devo dire che per noi della Romagna Doc è un onore suonare su un palco con un'orchestra gloriosa come quella della nuova Romagna Folk e qui vi chiedo già un applauso in anticipo. Loro sono più Doc di noi, sono tanti tanti anni e noi siamo loro ammiratori devo dire. E allora questa sera cominciamo noi ad aprire le danze perché dovrete anche ballare io spero noi faremo un po' di tutto, di musica e poi saremo a fare un rush finale con le due orchestre che si incroceranno. E allora sto parlando perché così intanto la ragazza bionda l'hanno ossigenata ieri, è una cosa freschissima. Sta mettendo le mollette in giro perché tra chi ha il parrucchino di noi... Grazie, tutti, hanno tutti il parrucchino, tutti! E allora noi cominciamo con un brano che ha vinto tanti tanti anni fa un premio dell'orchestre romagnole quando la Romagna veramente dominava le scene di tutta Italia. Si andava a suonare a Forlì, a Rimini, qui nella Repubblica di San Marino ma soprattutto si andava talmente lontano tipo non so Trieste, Udine, Pescara perché il liscio romagnolo era tosto, era la musica che faceva battere il piede ma la fa battere ancora e il brano che vi presentiamo è stato scritto da un grande io faccio subito un appello, chiedo un applauso per il grande Franco Bergamini e siccome noi tra pochi giorni siamo a suonare a Parma, la città natale di Giuseppe Verdi faremo un brano dal titolo Ricordando Verdi Venite a ballare in questo momento con la Romagna Doc Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti